Per anni aveva picchiato i genitori per farsi dare soldi per droga e prostitute. Questa la sintesi di una brutta vicenda, l'ennesima storia di violenza familiare accaduta nei pressi di Mercatale di Cortona, che adesso si è conclusa con un arresto. In manette è così finito un 35enne del posto. Il giovane da anni avrebbe infatti minacciato i genitori per farsi dare soldi, circa 60 euro al giorno. Sembra anche che il cortonese, dietro la minaccia di picchiare la madre e il padre, invalido e cieco, obbligasse la donna ad accompagnarlo agli appuntamenti con le prostitute e a comprare lo stupefacente. Per paura di queste ripercussioni, che spesso erano anche concrete, le vittime sin adesso l'avevano assecondato. Ma nel tardo pomeriggio di venerdì, al culmine dell'ennesima lite, la donna, stanca delle umidazioni subite da anni e dei soldi che il ragazzo pretendeva quotidianamente, ha deciso di raccontare tutti i carabinieri della stazione di Mercatale che hanno arrestato il ragazzo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e distorsione. Il 35enne è stato così condotto alla casa circondariale Aretina di San Benedetto.